ragazzi c'è ieri vlaovic oggi gozzi in sé per noi milanisti è diventata una settimana bruttissima buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno a tutti buon mercoledì a tutti ragazzi e bentornati sul canale dal vostro amico enaic nella casa del pane e balù è un risveglio un po così e così è perché dopo la giornata di ieri di vlaovic alla juventus che poi verrà presentato nel fine settimana oggi è la giornata di gosens all'inter e ragazzi gosens all'inter non è un acquisto da meno di quello di vlaovic e no è tanta roba gosens all'inter è un acquisto pari livello è perché ragazzi è vero che e poi c'è più clamore in vlaovic perché l'attaccante fa sempre più diciamo clamore però ragazzi gosens è un acquisto di tutto rispetto e arriva in un momento che sembrava cioè ragazzi qua piangevano tutti quanti che non avevano soldi non si può bisogna ridurre i costi bisogna chiedere ristori al governo perché non ce la facciamo e di qua e di là e di giù quelli prendono 70 milioni per vlaovic e questi spendono 30 per 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 gosens che ristori vuoi io va bene ragazzi allora parliamo di questa cosa qua perché comunque un gran bel colpo perciò parleremo di gosens oggi e vedremo se ci sarà qualche colpo da parte del milan perché insomma anche noi dobbiamo iniziare a fare qualcosina non possiamo rimanere indietro detto questo fatemi ricordare una cosa iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti ragazzi è molto importante attivare la campanella perché vi tiene sempre aggiornati ogni qual volta io pubblico un video voi non dovete perdere tempo per andare a cercarlo vi arriva la notifica ci cliccate sopra quando avete voglia e tempo e vi guardate l'ultimo video che pubblica il night bisogna rimanere aggiornati se si fa parte di una community bisogna fare questo ragazzi perciò iscrivetevi attivate la campanella condividete il video con altre persone così aiutate il video e me a essere conosciuto da altre persone mi raccomando mettete un bel like quello fatelo subito è tutto gratuito è quello che vi chiedo non mi chiedo soldi non vi chiedo niente è tutto gratis sono giusto due tre spolliciate da fare e basta perciò like subito così non ve lo dimenticate eventualmente lo potete elevare alla fine del video e ebbene partiamo partiamo ragazzi perché oggi è una mattinata un po un po così per noi milanisti perché siamo rimasti un po così di stucco ieri dopo tutte già si era nell'aria no però ieri è stata la conferma delle conferme di 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 vlaovic alla juve oggi c'è quella di gozzi all'inter e ragazzi fatemi dire una cosa comunque a parte le polemiche o le battute riguardo alla piangeria è un gran colpo è un gran colpo che mette a segno l'inter perché l'inter su quel da quel lì è vero che a perisic che in questo momento secondo me è insustituibile e non ci sono gozzi ins che tengano però perisic alla sua età non sta rinnovando e molto probabilmente non rinnoverà perché l'inter non gli vorrà da non gli vuole dare quello che lui chiede e non penso che che arrivi rinnovo comunque si arriverà arriverà le cifre dell'inter bisogna capire tutto quanto comunque l'inter non poteva rimanere insomma col col cerino in mano a fine anno e si è portato avanti si è portato avanti con chi prendendo il migliore dopo perisic esterno sinistro del del nostro campionato perché gozzi è vero che è fermo da settembre perché ha avuto i suoi problemi di infortuni e e quant'altro una ricaduta e quant'altro però ragazzi gozzi sulla fascia è tanta tanta roba è tanta tanta roba perciò all'inter innanzitutto lo fa arrivare subito e vuol dire dagli sei mesi di di ambientamento di vedere di capire come di conoscere i compagni capire come la squadra perché comunque non deve arrivare dopo l'infortunio essere subito pronto perché hanno necessità no no comunque loro sono coperti fino a giugno perché c'è c'è perisic è solo sta facendo ed è in ottima forma lui ha nel frattempo il tempo di riprendersi dall'infortunio conoscere i compagni capire l'allenatore capire cosa vuole allenatore ogni tanto fare qualche partita l'inserirci e l'anno prossimo loro a settembre c'hanno già un giocatore bello fatto che è finito e ragazzi questo è un gran colpo è un gran colpa poi certo non è che non è che arriva gratis è perché comunque quando spendi i soldi le premesse sono sempre ottime poi bisogna vedere poi certo tutto il campo darà darà le risposte diciamo farà vedere quello che che cosi saprà fare il campo cc poi c'è sempre il campo che che da valutare però oggi è un gran colpo ed è fatto nei tempi giusti al momento giusto certo poi dopo nessuno se l'aspettava perché ripeto qua piangevano tutti quanti misera quasi c'è qua sembrava che non riuscissero ad arrivare a fine mese che non si riusciva addirittura il marotto ho sentito e non mi è piaciuto devo essere sincero non mi è piaciuto questa 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 notizia che è uscita l'ho letta poco prima di iniziare il video è tutto giusto quello che dice poi nell'intervista i ristori perché il calcio non deve perdere i ritmi degli altri nazioni perciò deve rimanere allo stesso livello ho capito però il nostro paese adesso io non voglio entrare in politica non voglio addentrarmi in discorsi che non esistono ma il nostro paese altro a cui pensare sinceramente i ristori nel calcio sì è giusto che magari qualcosa debba fare il governo però deve vedere dall'altra parte un un segnale un qualcosa qua ognuno fa i cazzi suoi i giocatori pensano al culo loro vogliono sempre più soldi le società piangono miserie poi comprano a rate si fanno si indebitano insomma ragazzi diventa difficile con persone che magari fanno fatica ad arrivare a fine mese poter dare dei ristori al calcio insomma è un pochettino è tutto giusto ma secondo me i tempi e le modalità sono state sbagliate nell'aver dato queste dichiarazioni detto questo chiudo la parentesi non voglio addentrarmi in cose un po un po così così politiche quant'altro non mi interessa però ragazzi tornando a gosens ripeto è un gran colpo perciò io dico la juve ha fatto quello che doveva fare nel momento giusto perché anche la juve cioè dire che gosens e vlaovic sono gran sono bei colpi per l'amor di dio lo sanno lo sa chiunque chi 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 mastica un po di calcio chi segue il calcio gosens è un gran giocatore vlaovic anche e la juve ha fatto un gran colpo nel momento giusto dove veramente poteva doveva fare e poteva farlo e l'ha fatto è uguale l'inter è uguale l'inter ragazzi perché aspettare il milan farà un bellissimo colpo adesso si sta dicendo che con bottman si è raggiunto la quadra per giugno sarà sicuramente però in questo momento il milan ne ha bisogno in questo momento di bottman è perché io ero il primo a dire che si poteva andare avanti però l'infortunio di tomori io dico io l'infortunio di chi è arrivato all'inizio di dicembre cioè tu dovevi essere preparato cioè la juventus ha sistemato la juventus ha speso dei soldi adesso per cercare di arrivare in champions league io penso che adesso con vlaovic ecco lì cioè devono tremare lì davanti perché a parte l'inter che secondo me il suo posto in champions league si curcirà perché vincerà lo scudetto ma gli altri tre oggi devono tremare con la juve lì perché una delle tre rischia veramente di grosso con la juve con vlaovic e detto questo perciò loro cosa hanno fatto hanno speso adesso per poter entrare in champions league e prendere quei soldi perché se tu aspetti giugno non sai né se vai in champions league e rischi di non andare non sai se poi a giugno vlaovic ti fa vuol più venire nella juve che non giocherà la champions league se eventualmente se non ci va e oltretutto non sai se vlaovic questi altri sei mesi ti fa altri 15 gol arriva a fine campionato che ha fatto 35 gol e poi da 70 passa a 150 e perciò insomma i tempi sono stati perfetti quelli della juve poi te lo lasciamo le cifre è uguale l'inter con gosens è vero che tu puoi sfruttare fino a giugno e poi a giugno ci pensi e però poi dopo quando non ti rinnova perisic e le altre squadre sanno che tu hai bisogno dell'esterno sinistro alzano il prezzo bisogna vedere nel frattempo l'atalanta cosa cosa decide di fare con gosens se nel frattempo gosens si riprende fa un grande un grande riprende alla grande diciamola a giocare alla grande dopo l'infortunio perciò qualche altra squadra straniera lo vede e poi dopo alza il prezzo e poi dopo si arriva un'asta insomma bisogna essere attivi tu adesso il milan secondo me doveva fare qualcosa in più qualcosa in più la doveva fare io spero che ieri è stata la juve oggi è stata l'inter e magari domani il milan in sordina tutte e tre in sordina hanno fatto finta che nessuno dovesse comprare qualcuno invece poi sono uscito allo scoperto speriamo che lo scoperto anche il milan me lo aspetto spero di rispondere ma non tanto per la risposta loro di rispondere perché è giusto che le squadre le tre squadre le tre quattro squadre perché io ci metto il napoli insieme a milan inter e juve come le quattro squadre più importanti del campionato rispondano a questi due acquisti di inter e juve non lo so perché il milan e il napoli poi comunque sono due società che pensano molto al bilancio negli ultimi anni e mi sembra un po' difficile perché poi comunque è vero che hanno fatto tutto bene se inter e juve però è anche vero che hanno fatto delle modalità di pagamento a pagherò insomma è tutto un all in no tutto e poi dopo vedremo e insomma diventa un po' difficile che lo facciano sia milan e napoli con la proprietà del milan che è una proprietà che non fa certe determinate cose lo vuole prende paga se no niente il napoli che è sempre stato attento al bilancio come giusto che sia perché insomma è così boh ragazzi vedremo vedremo però comunque complimenti all'inter mi dispiace da milanista devo fare complimenti all'inter perché secondo me quello è un gran bel colpo e vedremo vedremo come andrà a finire ragazzi io vi chiedo un bel like se vi è piaciuto il video se in caso non l'avete messo prima se no lasciatelo se l'avete messo mi raccomando ci vediamo più tardi se c'è qualche news e bene bene ragazzi ci vediamo dopo e come dico sempre io ciao